Test su tutti i farmaci per scongiurare rischi di impurità cancerogene. Dopo l'allerta lanciata dall'AIFA sui prodotti a base di ranitidina, alcuni dei quali risultati positivi a tali sostanze, l'Agenzia Europea del Farmaco chiede alle aziende produttrici di estendere in via precauzionale i test sulla possibile presenza di nitrossamine su tutti i medicinali di sintesi, compresi quelli generici e da banco. E nel caso vengano rilevate queste sostanze, si dovranno informare tempestivamente le autorità per l'adozione di adeguate azioni normative.